Di per sé l'esperienza olimpica è stata pazzesca, cioè l'esperienza più bella della mia vita, perché è una cosa che sogni fin da bimbo e neanche mi potevo immaginare che un domani sarei stato in grado io di poterci arrivare a quel livello. E' bello poi il senso di comunità che si crea nel villaggio olimpico perché tutti quanti gli atleti, anche con quelli delle altre nazioni, sì assolutamente, ma proprio è quella la cosa bella, mentre nei mondiali e negli europei si è sempre un po' divisi, perché la Gran Bretagna sta in quell'albergo, la Francia nell'altro e via vai, lì il discorso di villaggio crea proprio questo senso di appartenenza comune che ti fa fare un sacco di conoscenze poi di base, perché arrivi i primi giorni, vai a esplorare tutto il villaggio perché poi ci sono delle sezioni ad hoc per noi atleti per o allenarci o anche passare quello che è il tempo libero con dei piccoli bar, i caffè, la mensa, il posto dove puoi giocare a biliardo, ping pong con gli altri atleti.